Queste sono comunque le strisce peronali di prima, qua non c'è la possibilità di scendere e la di salire. Anche qua siamo verso il ponte, questo è l'attraversamento, non c'è il gradino per scendere e neanche per salire sul ponte. Come potete notare sono all'altro lato del ponte. Dall'altra parte del ponte, il Brunelleschi che è questo, anche qua non c'è la possibilità di salire. Inoltre sia sul marciapiede sia sul ponte ci sono questi tre gradini, questo è il lato di Brunelleschi che va verso il santuario di Santa Rita. In questo lato del ponte non ci sono addirittura le strisce peronali, conseguentemente non c'è neanche la possibilità di salire sul ponte di Santa Rita. Percorro questo pezzo fino in fondo e adesso c'è un attraversamento. Comunque ricordo che dall'altra parte del ponte non c'è la possibilità di scendere. Sono arrivato in fondo al ponte, qua finisce le marciapiede, queste sono delle strisce di attraversamento gialle, ma ovviamente non sono più pedonali, non c'è comunque lo scivolo per salire, quindi anche da questo lato del ponte, cioè cavalcavia Brunelleschi in direzione Giambellino non è possibile salirci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.